Leo. Leo avrebbe tanto voluto inventare una macchina del tempo. Sarebbe tornato indietro di due ore e avrebbe annullato quello che era successo. In alternativa, anche una macchina molla schiaffoni a Leo sarebbe andata bene, ma dubitava che gli avrebbe fatto male quando l'espressione con cui Annavet lo stava guardando in quel momento. Spiegamelo di nuovo. Che cos'è successo esattamente? Leo era accasciato contro l'albero maestro, con la testa che pulsava ancora dopo aver battuto sul ponte. Intorno a lui la nave era un macello. Le balestre di poppa erano ridotte a una pila di legna da ardere. La vela di trinchetto era a brandelli. La rete satellitare che consentiva il collegamento internet era ridotta in mille pezzi. Edge era furioso. Il drago polena di bronzo Festus tossiva a fumo come un gatto che non riesca a sputare un bolo di pelo. Stando ai cigolii che provenivano da Babordo, alcuni dei remi aerei erano disallineati o spezzati, il che spiegava come mai la nave sbandasse e sobbalzasse in volo, con il motore che ansimava come una locomotiva asmatica. Leo soffocò un singhiozzo. Non lo so, è tutto molto confuso. Troppe persone lo stavano guardando. Annabeth? Leo detestava farla arrabbiare, quella ragazza lo spaventava. Edge, con le sue zampe pelose di capra e la mazza da baseball, ma doveva proprio portarsela dappertutto. E il nuovo arrivato, Frank. Leo non sapeva cosa pensare di lui e aveva deciso che era più saggio non sottolineare la sua somiglianza con un baby lottatore di sumo. Ed era piuttosto certo di avere visto, quando era ancora semisvenuto, un drago atterrare sulla nave e poi trasformarsi in Frank. Annabeth incrociò le braccia. Non te lo ricordi? Io... era come cercare di ingoiare una biglia. Me lo ricordo, sì, ma è stato come se guardassi me stesso fare le cose. Non avevo io il controllo. Edge picchiettò con la mazza sul ponte. Con la felpa della tuta e il berretto calato sui corni era tale quale a quando i ragazzi lo avevano conosciuto alla scuola della natura, dove aveva trascorso un anno sotto copertura come insegnante di ginnastica. Dal cipiglio con cui si sentiva squadrato, Leo si aspettava quasi che il coach gli stesse per ordinare una serie di flessioni. Senti un po', ragazzo, esordì il satiro. Hai buttato all'aria un po' di cose, hai attaccato i romani. Fantastico! Ma dovevi per forza far saltare i canali satellitari? Ero nel bel mezzo di un incontro di lotta! Coach, perché non va a controllare che i focolai siano tutti spenti? Gli chiese Annabeth. L'ho già fatto. Beh, lo faccia di nuovo. Edge si allontanò pestando gli zoccoli e brobottando tra i denti, ma nemmeno lui era così pazzo da sfidare gli ordini della figlia di Atena. Annabeth si inginocchiò accanto a Leo. I suoi occhi grigi erano duri come due sfere d'acciaio. Aveva i capelli biondi sciolti sulle spalle, ma era un particolare che il ragazzo non trovava affatto attraente. Non aveva idea di quale fosse l'origine dello stereotipo secondo cui tutte le bionde sono delle oche. Da quando aveva conosciuto Annabeth quell'inverno al Grand Canyon, e lei si era presentata con quell'espressione da «Tira subito fuori persi Jackson o sei morto», Leo pensava che le bionde fossero fin troppo sveglie e pericolose. «Leo, Ottaviano ti ha forse ingannato in qualche modo», e riprese lei in tono calmo. «Ti ha incastrato? No. Avrebbe potuto mentire e incolpare quello stupido romano, ma non voleva peggiorare le cose. Quel tipo era un idiota, ma non è stato lui a fare fuoco sul campo. Sono stato io». Frank si scurì in viso. «Di proposito? No!» Leo strinse forte gli occhi. «Beh, sì. Cioè, non volevo. Ma allo stesso tempo mi sentivo come se lo volessi. Qualcosa mi stava costringendo a farlo. Avevo questa brutta sensazione di gelo dentro. Una sensazione di gelo». Il tono di Annabeth cambiò. Sembrava quasi spaventata. «Sì. Perché?» «Da sotto coperta. Per si chiamò. Annabeth, abbiamo bisogno di te!» «Otei», pensò Leo. «Vi prego, fate che Jason stia bene». Non appena erano saliti a bordo, Piper lo aveva portato di sotto. Il taglio che Jason aveva sulla fronte non prometteva niente di buono. Leo lo conosceva da più tempo di tutti, al campo mezzo sangue. Era il suo migliore amico. Se gli fosse successo qualcosa... «Se la caverà!» L'espressione di Annabeth si addolcì. «Frank, torno subito. Tieni d'occhio Leo, per favore». Frank annuì. Se mai fosse stato possibile, Leo si sentì ancora peggio. Annabeth adesso si fida più di un semidio romano che conosce da tipo tre secondi chi di me. Quando se ne fu andata, i due ragazzi si fissarono. Frank aveva un'aria piuttosto strampalata con quella specie di toga a lenzuolo, la felpa col cappuccio, i jeans e l'arco e la faretra sulle spalle. Leo ripensò a quando aveva incontrato le cacciatrici di Artemide, un manipolo di belle e agili ragazze vestite d'argento e armate di arco. Immaginò Frank saltellare contento in mezzo a loro. L'idea era così ridicola che riuscì quasi a tirargli su il morale. «Allora», disse Frank, «non ti chiami Sammy?» Leo aggrottò la fronte. «Che razza di domanda è?» «Niente», si affrettò a rispondere il figlio di Marte. «È solo che niente. Quanto al bombardamento del campo, potrebbe esserci dietro Ottaviano con la magia o roba del genere. Non voleva che i romani andassero d'accordo con voi». Leo avrebbe tanto voluto crederci ed era grato che Frank non l'odiasse. Però sapeva che non era stato Ottaviano. Era stato lui ad avvicinarsi alla balista e a fare fuoco. Una parte della propria mente sapeva di stare sbagliando. Si era chiesta «Che diamine sto facendo?» Ma lo aveva fatto lo stesso. «Forse sto impazzendo», si disse. «Forse lo stress di tutti i mesi trascorsi a lavorare sul Largo 2 alla fine lo aveva fatto crollare. Ma non poteva pensarci. Aveva bisogno di fare qualcosa di produttivo, di tenere le mani impegnate. Senti, dovrei parlare con Festus e avere un rapporto sui danni. Ti dispiace se...» Frank lo aiutò ad alzarsi. «Chi è Festus?» «Un mio amico», rispose Leo. «Neppure lui si chiama Sammy, nel caso te lo stia domandando. Vieni, te lo presento». Per fortuna, il Drago di Bronzo non aveva subito danni. Beh, a parte il fatto che quell'inverno aveva perso tutto tranne la testa, ma quella era un'altra storia. Quando raggiunsero la prua della nave, la polena si voltò di 180 gradi e li guardò. Frank urlò di spavento e si ritrasse. «È vivo?» Leo avrebbe riso, se non fosse stato ancora così giù. «Frank, ti presento Festus. Una volta era un Drago di Bronzo dalla testa ai piedi, ma abbiamo avuto un incidente». «Ti capita spesso allora», notò il figlio di Marte. «Beh, alcuni di noi non sanno trasformarsi in draghi, perciò se li devono costruire da soli?» Leo sorrise. «Comunque l'ho recuperato come polena. Diciamo che è l'interfaccia principale della nave adesso». «Come buttano le cose, Festus?» Il Drago sbuffò una nuvoletta di fumo e produsse una serie di cigolii e ronzii. Nel corso degli ultimi mesi, Leo aveva imparato a interpretare quel linguaggio meccanico. Altri semidei capivano il latino e il lui parlava il cric e lo squiii. «Accidenti!» esclamò. «Poteva andarci peggio, ma lo scafo è compromesso in diversi punti. I remi aerei di Babordo vanno aggiustati prima di andare di nuovo al massimo. Ci servirà del materiale per le riparazioni. È bronzo celeste, catrame, calce. Vuoi prendere la nave a calci?» domandò Frank. «Calce! Si usa per il cemento e per un sacco di altre cose che... lasciamo perdere. Il punto è che questa nave non arriverà lontano se non riusciamo ad aggiustarla». Festus emise un altro cigolio, che suonava più o meno come Hazel. «Oh, Hazel!» intuì Leo. «La ragazza con i capelli ricci, giusto?» Frank trassalì. «Sta bene?» «Sì, sta bene. Secondo Festus il suo cavallo sta correndo qua sotto. Ci sta seguendo. Dobbiamo atterrare, allora». Leo scrutò Frank. «È la tua ragazza?» Il figlio di Marte si morse il labbro. «Sì. Non è sempre tanto sicuro. Sì. Sì, decisamente sì, sono sicuro». Leo alzò le mani. «Ok, va bene. Il problema è che possiamo permetterci un solo atterraggio. Per come sono conciati i remi e lo scafo, non riusciremo a decollare di nuovo senza le riparazioni. Perciò dobbiamo fare in modo di atterrare in un luogo che abbia tutto ciò che ci serve». Frank si grattò la testa. «Dove si prende il bronzo celeste?» «Mica si trova nei negozi di ferramenta. Pestus, fai una ricerca». «È in grado di fare una ricerca del genere?» chiese Frank stupito. «C'è qualcosa che non sa fare?» «Avresti dovuto vederlo quando aveva anche un corpo», si disse e Leo. Gli era doloroso ripensare a come era prima. Sbirciò oltre la prua. Stavano sorvolando la valle della California centrale. Non nutriva molte speranze di riuscire a trovare tutto ciò di cui avevano bisogno in un posto solo, ma dovevano tentare. E poi voleva anche allontanarsi il più possibile da Nuova Roma. Largo 2 poteva coprire vaste distanze molto in fretta grazie al motore magico, ma Leo sospettava che pure i romani avessero mezzi di locomozione magici. Alle sue spalle le scale cigolarono. Persi e Annabeth salirono sul ponte, con la faccia cupa. Leo ebbe un tuffo al cuore. «Geson è... sta riposando», disse la figlia di Atena. «Piper lo sta tenendo d'occhio, ma dovrebbe essere a posto». Persi gli rivolse uno sguardo duro. Annabeth dice che sei stato davvero tu a fare fuoco. «Senti, amico, io davvero non capisco come sia successo. Mi dispiace moltissimo». «Ti dispiace?», ringhiò Persi. Annabeth gli mise una mano sul petto. «Ne verremo a capo più tardi. Ora dobbiamo riorganizzarci e fare un piano. Qual è la situazione della nave?». A Leo tremavano le gambe. Il modo in cui Persi lo guardava lo faceva sentire come quando Geson evocava i fulmini. Gli formicolava la pelle e ogni cellula del corpo urlava «Giù!». Riferì ad Annabeth dei danni e del materiale di cui avevano bisogno, provando un po' di conforto nel parlare di cose che si potevano aggiustare. Stava lamentando la carenza di bronzo celeste quando Festus cominciò a ronzare e cigolare. «Perfetto!». Leo tirò un sospiro di sollievo. «Che c'è?», domandò Annabeth. «Mi farebbe proprio comodo qualcosa di perfetto in questo momento». Leo riuscì a sorridere. «Tutto ciò di cui abbiamo bisogno si trova in un unico posto. Frank, perché non ti trasformi in un uccello o roba del genere? Vola giù e dia alla tua ragazza di venirci incontro al Great Salt Lake, nello Utah». Quando arrivarono alla meta, non fecero un bel atterraggio. Con i remi danneggiati e la vela di trinchetto strappata, Leo riusciva a malapena controllare la discesa. Gli altri si misero al sicuro sotto coperta. Tutti tranne Edge, che insistette per aggrapparsi al parapetto di prua urlando «Sì! Fatti avanti! Lago!». Leo invece rimase al timone da solo, a poppa, cercando di manovrare la nave al meglio delle proprie possibilità. Festus cigolava e ronzava avvertimenti, che venivano riportati sul cassero grazie a un interfono. «Lo so, lo so!», brontolava Leo a denti stretti. Non ebbe molto tempo per godersi il panorama. A sud-est c'era una città, che sorgeva ai piedi di una catena montuosa, azzurra e viola nelle ombre del pomeriggio. Un paesaggio piatto e desertico si stendeva invece verso sud. Sotto di loro, il Great Salt Lake scintillava come un foglio di alluminio, le rive con rosè da paludi di sale bianco. Sembravano foto aeree di Marte. «Si tenga forte, coach!», gridò Leo. «Stiamo per farci un po' male!» «Evviva!» «Vum!» Un'onda di acqua salata investì la prua, bagnando completamente il satiro. L'argo 2 si inclinò pericolosamente a dritta, quindi si raddrizzò e atterrò con un forte scrollone sulla superficie del lago. Con un potente ronzio meccanico, le eliche aeree ancora in funzione, assunsero la forma nautica. Tre file di remi meccanici si tuffarono in acqua e cominciarono a spingere in avanti l'imbarcazione. «Pestus, ottimo lavoro!» esclamò Leo. «Portaci verso la riva meridionale!» «Sì!» e Gesultò, alzando i pugni in aria. Era fradicio dalla punta dei corni alla punta degli zoccoli, ma sorrideva come un caprono impazzito. «Rifacciamolo!» «Forse dopo», replicò Leo. «L'importante è che resti sul ponte, ok? Può fare la guardia nel caso il lago decidesse di attaccarci?» «Contaci!» promise Edge. Leo suonò la campana del Via Libera e si diresse alle scale. Prima di arrivarci, però, un forte clop-clop fece per intronare lo scafo. Uno stallone comparve sul ponte, con Hazel e vecchi in groppa. «Ma come?» Leo era sbalordito. «Siamo in mezzo a un lago! Quel coso vola!» Il cavallo nitri arrabbiato. «Aryon non sa volare, ma può correre su qualunque cosa», spiegò Hazel. «Acqua, superfici verticali, piccole montagne. Per lui non sono un problema». «Oh!» Leo si accorse che Hazel lo stava guardando in modo strano, proprio come nel foro, come se cercasse qualcosa sul suo viso. Fu tentato di chiederle se non si fossero già incontrati, ma era sicuro di no. Si sarebbe ricordato di una ragazza così carina che gli prestava tanta attenzione. Non gli capitava spesso. «Ma è la ragazza di Frank», rammentò a se stesso. Il figlio di Marte era ancora sotto coperta, ma Leo avrebbe quasi voluto che li raggiungesse. Il modo in cui Hazel lo scrutava lo stava mettendo in imbarazzo. Si sentiva a disagio. Edge si fece avanti con cautela, scrutando con sospetto il cavallo. «Valdes, dici che devo considerarlo un invasore?» «No!» rispose Leo. «Hazel, è meglio che vieni con me. Ho costruito una scuderia sotto coperta. Se Arion vuole... Arion è uno spirito libero. Pascolerà intorno al lago finché non lo chiamo». Hazel smontò con grazia. «Io invece voglio vedere la nave. Fammi pure strada». L'argodù era concepita come un'antica trireme, solo che era grande il doppio. Il primo ponte aveva un solo corridoio centrale, con le cabine dell'equipaggio ai lati. In una trireme normale, la maggior parte dello spazio sarebbe stata occupata da tre file di panche su cui siedevano centinaia di rematori sudati, ma i remi di Leo erano automatizzati e retrattili, perciò impegnavano davvero poco spazio all'interno dello scafo. La potenza della nave proveniva dalla sala motori sul punto inferiore, che ospitava anche un'infermeria, una cambusa e una scuderia. Leo condusse Hazel lungo il corridoio. Aveva costruito la nave con otto cabine, sette per i semidei della profezia, e una per il coach Edge. «Ma come fa Chirone a considerarlo un accompagnatore adulto e responsabile?» si chiese una volta di più, mentre si dirigeva verso la grande sala mensa e soggiorno collocata a poppa. Passarono davanti alla stanza di Jason, la cui porta era aperta. Piper sedeva sul bordo della brandina e teneva la mano al figlio di Giove, che russava con una borsa del ghiaccio sulla testa. La ragazza lanciò un'occhiata a Leo. Si portò un dito alle labbra per dirgli di fare piano, ma non sembrava arrabbiata. Leo cercò di far tacere il senso di colpa e continuarono a camminare. Quando raggiunsero la mensa, trovarono Percy, Annabeth e Frank seduti intorno al tavolo, con l'aria molto abbattuta. Leo aveva reso quel posto il più accogliente possibile, immaginando che ci avrebbero trascorso un sacco di tempo. La credenza era piena di piatti e bicchieri magici del campo mezzosangue, che si riempivano di qualunque cibo o bevanda si desiderasse. C'era anche un minifrigo portatile per le bibite in lattina, perfetto per i picnic arriva. Le poltrone erano riclinabili, soffici e massaggianti, con cuffie stereo e incorporate, reggi bicchieri e reggi spade, per soddisfare ogni esigenza di relax semidivino. Non c'erano finestre, ma le pareti incantate mostravano scene del campo mezzosangue, la spiaggia, la foresta, i campi di fragole. Leo si chiese se fosse stata una buona scelta. Erano rasserenanti o aumentavano solo la nostalgia? Percy, per esempio, stava fissando col rimpianto una veduta della collina mezzosangue al tramonto, con il bello d'oro che scintillava tra i rami di un alto pino. «Allora siamo atterrati», disse. «E adesso? Cerchiamo di capire la profezia?» Frank stava giocarellando con la corda del proprio arco. «Quella che abbiamo sentito dire da ella era una profezia, giusto? Dai libri sibillini?» «Da che?» domandò Leo. Frank spiegò che la loro amica Arpia era incredibilmente brava a memorizzare i libri. In un punto imprecisato del suo passato, aveva praticamente inalato una raccolta di profezie considerata distrutta dall'epoca della caduta di Roma. «Ecco perché non l'avete detto ai romani?» intui Leo. «Non volevate che la prendessero?» Persi continuava a fissare l'immagine del campo mezzosangue. «Ella è sensibile. Era tenuta prigioniera quando l'abbiamo trovata. Non volevo che…» Il figlio di Posidone strinse un pugno. «Non ha importanza adesso. Ho inviato un messaggio iride a Tyson, dicendogli di portare Ella al campo mezzosangue. Là saranno al sicuro». Leo dubitava che qualcuno potesse dirsi al sicuro là, ora che ai guai provocati da Gea e dai giganti si erano giunte le ire di un campo di romani inferociti. Ma tenne per sé tale considerazione. «La profezia lasciatela a me. Annabeth intrecciò le dita. In questo momento abbiamo problemi più urgenti. Dobbiamo riparare la nave. Leo, che cosa ci serve? La cosa più semplice da reperire è il catrame. Leo fu felice di cambiare argomento. Possiamo prenderlo in città, dove si riforniscono le ditte di riparazione dei tetti. E poi ci serve un po' di calce e di bronzo celeste. Secondo Festus, possiamo trovare entrambe le cose su un'isola del lago a ovest di qui. «Dobbiamo sbrigarci», gli avvisò Hazel. «Se conosco Ottaviano, si sta già cercando con i suoi auguri. E i romani ci sguinzaglieranno dietro un comando. È una questione d'onore». Leo si sentì addosso gli occhi di tutti. «Ragazzi, non so cosa sia successo. Parola mia, io...» Annabeth solleva una mano per fermarlo. «Ne abbiamo parlato. E concordiamo che non puoi essere stato tu. La sensazione di gelo che hai avuto l'ho sentita anch'io. Deve essere stata una qualche sorta di magia, opera di Ottaviano, di Gea o di qualcuno dei suoi tirapiedi. Ma finché non capiamo cosa sia successo...» Frank sbuffò. «Come facciamo a essere sicuri che non succederà un'altra volta? Le dita di Leo si surriscaldarono come se stessero per prendere fuoco. Uno dei suoi poteri di figlio di Efesto era la capacità di evocare le fiamme a piacimento, ma doveva fare molta attenzione a non attivarlo per sbaglio, soprattutto su una nave piena di esplosivi e di merci infiammabili. «Ora sto bene», dichiarò, «anche se avrebbe voluto esserne più sicuro. Forse dovremmo usare il sistema delle coppie. Nessuno va da solo da nessuna parte. Possiamo lasciare Piper il coach a bordo con Jason. Mandiamo una squadra in città a prendere il catrame e un'altra a cercare il bronzo e la calce. Dividerci?» Per si aggrottò la fronte. «Mi sembra una pessima idea». «Così faremo prima», osservò Hazel. «E poi non è un caso che le imprese eroiche di solito siano compiute da tre persone, giusto?» Anna betinarcò le sopracciglia, come se stesse rivalutando le doti di Hazel. «Hai ragione. Ed è lo stesso motivo per cui abbiamo avuto bisogno del Largo 2. Fuori dal campo, sette semidei in un posto solo attraggono decisamente troppo l'attenzione dei mostri. La nave è concepita in modo da nasconderci e proteggerci. A bordo dovremmo essere abbastanza al sicuro, ma nelle spedizioni è meglio non viaggiare in gruppi più grandi di tre persone. Non ha senso attirare più servi di Gea di quanto sia necessario». Persi non sembrò convinto, ma prese Anna bet per mano. «Se verrai con me, allora mi sta bene». «Oh, non c'è problema», disse Hazel sorridendo. «Frank, sei stato incredibile in versione Drago. Potresti farlo di nuovo per accompagnare Anna betepersi in città a prendere il catrame?» Il figlio di Marte fu sul punto di protestare. «Io credo di sì, ma tu che farai? Io e Leo cavalcheremo Arion». Hazel giocherellò con l'elsa della sua spada. Sembrava perfino più nervosa di Leo. «Prenderemo il bronzo e la calce e ci ritroveremo tutti qui prima che faccia buio». Frank si accigliò. Non gli piaceva l'idea di Leo e Hazel insieme. E la sua disapprovazione convince Leo ad accettare. Doveva dimostrare di essere degno di fiducia. Non aveva più nessuna intenzione di mettersi a fare fuoco a casaccio. «Leo, una volta recuperato il materiale, quanto tempo ci vorrà per le riparazioni?» domandò Anna bet. «Con un po' di fortuna solo qualche ora». «Bene, ci ritroviamo tutti qui il prima possibile», tagliò a corto la figlia di Atena. «Siate prudenti. Ci farebbe proprio comodo un po' di fortuna. Ma questo non significa che ce l'avremo». «Ce l'avremo».